Il berretto dell'immaginazione Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Ci sono tantissimi animali sugli alberi, sono davvero fantastici! Benvenuti nella fabbrica di fuoristrada del Rospo! I fuoristrada dal distruttore di giocattoli sono stati distrutti, perciò la fabbrica sta lavorando velocemente in modo da rifarli tutti! La produzione di giocattoli, il Rospo non vuole rallentare e per superarli veloci sopra ogni fuoristrada dovrete saltare! Il tappitto! Il nobitreno!